Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video oggi siamo ancora su NBA e vi farò vedere la mia build che ho usato quest'anno sul 2k21 e niente, vabbè ve la faccio vedere poi vi metterò anche qualche clip di cosa può fare questa build andiamo su statistiche, 2k card questi vabbè non sono i valori massimi però per essere 86 sono buoni questi sono gli attributi questi sono i cartellini che ho se ne sbloccano 2 in conclusione 20 al tiro 22 in regia mi pare difesa e rimbalzi 4 mi pare si, adesso ve lo faccio vedere distintivi si, 4-21 4 con la difesa e rimbalzi 21 con la regia, 20 al tiro e 2 con la conclusione e poi ho qualche potenziamento per le abilità che sono finiti e niente, la build è buona è un metro e 90 per 90 kg l'ho pensata perché così in difesa mi aiuta molto in difesa il fatto che sia alta 1,90 e pesi 90 kg e anche in attacco la differenza si fa sentire soprattutto sotto canestro e niente, mi sa che la riutilizzerò anche l'anno prossimo come torta ho usato quella metà regia metà no, aspetta 20 no boh, comunque 35% al tiro 35% regia 25% ah, madonna non mi ricordo aspetta che vediamo quale che ho usato ah no è al 35 tiro 35% regia 15 conclusione 15 difesa si, questa qua e niente ora vi lascerò un po' di clip e fatemi ah no si, si un po' di clip vi lascio e in realtà l'ho fatta di 1,90 per 92 kg però vabbè 2 kg in più 2 kg in meno non fa molto la differenza e niente vi lascio le clip bella i do the same thing i told you that i never would i told you i'd change even when i knew i never could know that i can't find nobody else as good as you i need you to stay need you to stay i get drunk wake up i'm wasting Grazie a tutti 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 Grazie a tutti